ecco fatto ormai ho quasi finito e non ho neanche una goccia di colla sulle dita mamma 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 stupida colla mamma ma questo da dove viene quella è la stanza di norman sarà meglio che chieda aiuto un incendio sopra il supermercato di dillys attenzione un incendio sopra il supermercato cat price voglio una mobilitazione generale ah Sam forse dovresti aiutarmi di nuovo adesso si sente uno strano rumore di sirene presto ora dovresti lasciare l'edificio nel caso l'incendio si diffondesse l'incendio? qual'incendio? norman allontanati da qui alla svelta non posso Sam sono rimasto incollato alla porta ho capito allora vediamo Penny va a prendere un cacciavite dobbiamo smontare il pomello vado subito Sam ma queste viti sono arrugginite non vengono via allora stacca tutta la porta oh oh Norman Price rimetti a posto quella porta scusa mamma ma non posso ci sono rimasto incollato non preoccuparti ci penso io mi servirà soltanto un po' di acetone per lo smalto io non posso credere che tu sia rimasto incollato al pomello comunque c'era un avvertimento sulla colla ma tu come al solito non segui le istruzioni e chi c'è con lui? oh no qui pronto intervento che cosa posso fare per lei? la prego è un'emergenza chiamate subito Sam il pompiere per favore Norman Price precipitato sulla scogliera questa è una missione per il soccorso alpino io prendo l'elicottero Sam ci vediamo lì eccomi Sam sono qua sotto sta tranquillo Norman adesso tu dovrai fare molta attenzione a tutto quello che ti dirò d'accordo? va bene pronto Tom? qui ci servirà una doppia imbracatura ricevuto tieniti pronto la sto già calando dammi a sentire Norman adesso io ti passerò un'imbracatura presa ora devi farla scivolare sopra la testa in modo che ti finisca sotto le ascelle io ho capito Sam ma lei si occupi di radar per favore d'accordo Norman adesso devi indossarla come ti ho spiegato hai capito Norman? mi dispiace io pensavo di sapere quello che facevo ma non era così non importa sta tranquillo tiraci su Tom ecco qua Norman una bella cioccolata bollente per riscaldarti siamo stati fortunati che ci fosse anche Radar lui è un cane molto intelligente ha cercato di impedire a Norman di oltrepassare il cartello mi scusi Sam lei ci aveva avvertito ma allora l'avete vista poi l'aquila reale? no in realtà io non credo che ce ne siano in questa zona guarda il tuo amichetto Tom sembra di sì wow io non avevo mai visto un uccello così da vicino guarda come muove le ali oh Radar l'hai mandato via Radar gli ha appena fatto un favore quel uccellino aveva bisogno di tornare alla natura non certo di restare qui con noi certo che il nostro Radar è veramente un cane molto intelligente aspetta papà torna di là Mandy e subito oh ma fa come ti ho detto è pericoloso è pericoloso oh no oh no oh no e adesso oh no ma come stocca il povero laboratorio tutto vado subito a chiamare i pompieri un incendio a casa dei flocchi oh no i fuochi d'artificio oh ops un'altra volta c'è un incendio dai flocchi io credo che sia a causa dei fuochi d'artificio Elvis Sam prendete il Jupiter io vi seguirò dalla sala controllo chissà dove sarà andato Leone e se si fosse nascosto proprio lì dentro non dirlo neanche per scherzo Sam ascolti forse Leone si è nascosto in laboratorio di nuovo ora ci penserò io niente per fortuna lì dentro non c'è ho controllato dappertutto ne sono sicuro oh per fortuna Sam che sollievo per fortuna azzi picchia ma dove sarà finito voglio tornare a casa papà chissà se Leone ci aspetta lì dai ti accompagno io ehi ma non dobbiamo prima vedere il resto dei fuochi secondo me ne abbiamo visti anche abbastanza per oggi infatti la prossima volta lasceremo fare ai ai professionisti era tanto che non spegnevamo un incendio così grosso hai ragione io avevo quasi dimenticato come si spengono ma che cosa è stato? l'hai sentito anche tu vero? ah ecco fatto Dillis e ha smesso di piovere le cose si mettono per il meglio urrà a questo punto possiamo di nuovo fare la festa e cantare la canzone in giardino allora non è rotto ne sei sicura? ma certo è soltanto un graffio oh per fortuna è tornata la luce non mi andava l'idea di lasciare Mike al buio in casa sono perfettamente d'accordo vedi non è certamente da tutti saper mantenere la calma al buio allora ci siamo tranquillo le salsicce sono quasi pronte oh ed è tornata anche Ellen ciao mamma oh ma è stupendo sono tornata appena in tempo e non ho dovuto fare niente l'idea era quella giusto? oh i tovaglioli li prendo io? no oggi io voglio che tu non faccia proprio niente te l'ho già detto aiuto al fuoco aiuto Ellen fai qualcosa chiama Sam il pompiere sembra che sia scoppiato un incendio a casa dei flott oh no sarà probabilmente collegato al blackout sono tornato non per molto Sam andiamo allora c'è qualcuno rimasto all'interno? nessuno siamo tutti qui d'accordo Penny gli autorespiratori presto d'accordo Sam stacca l'interruttore generale staccato quando va via la luce dovete sempre essere sicuri che l'alimentazione delle piastre elettriche della cucina sia staccata avete capito? è stata colpa mia mi raccomando non lasciate mai nulla sulle piastre per esempio i tovaglioli già come ho fatto io mi dispiace cosa? ehi ciao ciao pila via Charlie io stavo provando a fare amicizia con quella volpina già avrei dovuto immaginarlo cosa stai combinando Norman? no non sono io è un lupo mamma non farti prendere dal panico ora chiamo Sam il pompiere Norman prendimi il telefono non posso mamma io non voglio essere mangiato oh no allora usa il rilevatore di fumo non sarà un incendio ma è sempre un'emergenza rompi il vetro ma come mamma? guarda quanto siamo lontani hai ragione prova a tirargli qualche cosa se avessi qui il mio pallone potrei anche farcela eccolo la è dietro il balcone d'accordo adesso farò del mio meglio ma purtroppo ho solo un tentativo è di nuovo il supermercato di Dillis ma non è possibile si tratta sicuramente di un altro falso allarme Sam adesso Norman Price sta davvero esagerando oh no Sam il pompiere stavolta non verrà penserà che voglia prenderlo in giro e finirà mangiato dal lupo proprio come il bambino di quella storia e anche io mi dispiace tanto mamma è soltanto colpa mia l'ho fatto scattare io prima e l'ho fatto solo per riavere il mio pallone oh no Norman è Sam è arrivato Sam attento o cadiamo tutti e due Norman Price dovresti vergognarti di che cosa ci fate lassù? c'è un lupo qui dentro guarda è dietro il bancone in serio non è uno scherzo stavolta ma quello non è un lupo è una volpe e credo sia anche ferita oh poverina prendi la pinza Elvis oh Sam avevo così paura credevo che non sarebbe più venuto noi rispondiamo sempre alle chiamate d'emergenza anche quando le riteniamo falsi allarmi non preoccuparti io non voglio farti del male ecco fatto adesso fascerò per bene la ferita e si rimetterà in un paio di giorni svelti uscite tutti dalla porta posteriore così bravi e mantenete la calma mi raccomando certo che questa è stata proprio una strada panoramica state tutti bene? io credo di sì magnifico a questo punto non resta che fare marcia indietro e tornare sulla strada signor Evans guardi tu dovresti essere a letto qui ci serve aiuto dobbiamo chiamare subito Sam il pompiere magari purtroppo il cellulare è rimasto sull'autobus adesso lasciate fare a me Mike ha dimenticato il suono e la cassetta degli attrezzi l'autobus di Trevor sta per precipitare dalla scogliera ma è un vero disastro alla scogliera l'autobus di Trevor sta per precipitare non c'è tempo da perdere Sam qui i vigili del fuoco di Pontipandi a soccorso alpino abbiamo bisogno di te Tom in effetti è in una brutta posizione ma per fortuna quel costone sembra abbastanza stabile ricevuto stiamo arrivando arriva Sam il pompiere Trevor c'è ancora qualcuno a bordo no Sam siamo tutti qui è soltanto il mio vecchio autobus che è nei guai e anche Norman ma coraggio ora sbrighiamoci Elvis il cavo d'acciaio allontanatevi voi io inizio a tirare Sam fa presto la roccia inizia a cedere ricevuto Tom grazie Sam grazie grazie hurra 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 mi dispiace di essere scappato mamma ma adesso mi sento davvero molto meglio grazie per aver dato l'allarme ma in ogni caso non avresti mai dovuto lasciare libera Wally e adesso che cosa gli succederà Sam? no grazie va bene così questi falsi allarmi ci fanno sprecare tempo prezioso che cosa sarebbe successo se oggi ci fosse stata un'altra emergenza? lo so signore lei ha ragione ma qui c'è stato davvero un equivoco e poi è meglio andare sul sicuro si questo è certo oh guardate la Elvis via la corrente ed ora l'estintore scusa Penny quello era il tuo toast perfetto cielo ciao Norman lo sapevi che alla trattoria del pesce intero oggi c'è il menù per la festa della mamma forse potresti portarci tua madre non c'è bisogno io le ho già fatto un regalo vedi? è vero e questo cosa dovrebbe essere? ma è un porta candela è evidente davvero? beh forse ti saresti potuto impegnare un po' di più lo sai? ciao mamma guarda ti ho fatto un regalo per la festa della mamma oh Norman è è simpatico ti piace è un porta candela oh ma sul serio grazie sei un vero tesoro ricordale la cena alla trattoria del pesce intero oh Trevor volentieri no io dicevo a Norman per la festa della mamma grazie ma io cena ogni sera con mia mamma ecco la cena mamma che buono odorino Bronwyn questa volta non è merito mio Ellen oggi non ho mosso un dito sì stasera dovrei accontentarti della mia abilità e dei miei nuovi due assistenti ciao Odilis dov'è Norman? oh ecco oggi lui ha preferito andare sullo skate ma guardate un po' che cosa mi ha regalato e che cos'è quello? io direi che è un semplice tappo di plastica inchiodato su un pezzo di legno James non essere scortese per favore questo è un porta candela non ti dispiacerà se lo uso vero? no di certo Dillis al contrario ma figurati la festa della mamma è un vero strazio tutti i miei amici sono con le loro mamme e andare sullo skate da soli non è affatto divertente grazie per l'invito Trevor è un'idea stupenda mangiare l'umedi ops scusate attenta Dillis acqua per favore ora cercate di restare calmi e uscite tutti al più presto dal locale forza un incendio alla trattoria del pesce intero? un incendio alla trattoria del pesce intero fatta in fretta stavolta non è un falso allarme, sir ha chiamato Charlie in persona chissà dove sarà l'incendio Penny ed Elvis, voi due prendete l'idrante io controllo che non sia rimasto nessuno dentro d'accordo Sam mamma mamma Norman stai indietro si ma la mia mamma è lì dentro no tranquillo lei è laggiù Norman Norman oh mamma ho avuto tanta paura credevo che tu fossi in pericolo oh Norman ma allora mi vuoi bene veramente ma si certo tu sei la mia mamma Norman oh 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 ah Oh 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 o oh 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 vado a chiamare Sam il pompiere Norman Price caduto in acqua dal molo vieni al porto Sam, Norman Price è caduto in acqua con un go kart vado subito signore aiuto Sam sta calmo Norman, ci siamo noi adesso, non preoccuparti cerca di aggrapparti alla mia mano bene, stavolta devo ammettere che hai veramente superato te stesso hai quasi provocato un incidente stradale e hai perfino rischiato di annegare ora tutto questo non sarebbe mai successo se avessi aspettato che Mike ti avessi aiutato a costruire il tuo go kart mi dispiace Sam e chiedo scusa a tutti non lo farò più, ve lo prometto questa volta non basterà soltanto chiedere scusa Norman adesso dovrai anche cercare di rimediare ai danni dopo che avrà finito potrebbe aiutarmi a costruire un vero go kart oh ma certo Norman, molto volentieri passami la chiave forte non appena avremo riparato ci penso io dobbiamo organizzare le ricerche se il radar fiutasse qualcosa di Helen poi potrebbe condurci da lei tu sai dirci da quale parte sono andate Mike mi dispiace Tom e io continuo a pensarci ma non me lo ricordo proprio oh ecco questo dovrebbe essere suo chiuda qui il radar ora trova Helen ma la montagna di Pontipandi è da quella parte lo so chissà dove ci sta portando non sono stato io ciao Radar che cosa ci fai qui? noi stiamo cercando Penny e tua madre Radar ha fiutato la maglietta di tua madre e ci ha portati dritti qui ma quella non è una maglietta è un vestitino ed è mio come hai fatto a dare a Radar il vestito sbagliato da annusare? oh mi dispiace io veramente non ricordavo che fosse il tuo questa è sicuramente della mamma aspettate adesso ricordo si ecco Helen stamattina ha detto che sarebbe andata a fare una bella passeggiata in collina coraggio Radar ritrovali orato 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 il Torniamo al pulmino subito No, Dillis, da questa parte, da questa parte Vieni qua Aiuto, chiamate Sammy il pompiere Un incendio sulla montagna di Pontipandi? Incendio sulla montagna di Pontipandi, sarà meglio avvertire Tom Pronto Tom, stiamo arrivando Abbiamo saputo dell'incendio scoppiato sulla montagna di Pontipandi Sei sicuro, Sam? Comunque, d'accordo, vi aspetto qui Che strano, eppure non vedo fumo Dov'è l'incendio che hai visto? Eccolo, è laggiù Ci sono ancora le fiamme arancioni che divampano tra gli alberi Oh, 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 oh cielo Mamma, ma quello è solo il tramonto Norman Price, se tu non avessi cercato in ogni modo di spaventare tua madre Tutto questo non sarebbe mai successo Continua così e io ti porterò subito a casa, è chiaro? Mi dispiace, Trevor, scusa mamma Ti prometto che non cercherò più di spaventarti Molto bene, ora sarà meglio che chiami la caserma e gli dica del falso allarme Oh, che cosa? Un falso allarme? Ehi, sentite ragazzi! Ehi, ragazza! Falso allarme! Non c'è nessun incendio! Ripeto, non c'è nessun incendio! Era un falso allarme, Elvis Rientriamo Ecco l'incendio! Devo immediatamente avvertire Sam Pronto? Pronto, Sam sono io! Ho localizzato l'incendio! Fate presto! Sì, Tom, stiamo arrivando! Tu aggiorna immediatamente il capitano Steve Oh, no! Mamma! Trevor! C'è un incendio! Dico davvero stavolta! Avvertite Sam il pompiere! Subito! Norman Price Devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no! Non sono storie! È vero! Venite a vedere! Oh, santo cielo! Cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco Tom Thomas chiama Sam Sono appena decollato Dove siete? Siamo sul posto, Tom! Penny, Elvis, portate gli idranti Sto arrivando, Sara! Tieni duro! Papà! Non riesco a muovermi! Aiuto! Non si preoccupi! C'è Norman Man qui! Norman! Smettila di sognare! Tu non sei un vero supereroe! Io corro a chiamare Sam il pompiere! Aiuto! Aiuto! Un incidente sulla spiaggia! C'è stato un incidente sulla spiaggia! Ci vorrà la guardia costiera! Prendi la lancia con Penny! Non preoccuparti, papà! Semmi il pompiere starà per arrivare! Aiuto! Eccolo! Sì, viva! Urrà! Urrà per Sam! Che cosa è successo, Charlie? Ciao, Sam! Ecco, niente di serio Ho solo stato uno scoglio E sono caduto in acqua Sono rimasto impigliato in una nassa Ma posso farcela? Oh, no! Adesso mi tuffo a dare un'occhiata Certo dovevi andare veloce Quando hai urtato contro lo scoglio Non lo so Io volevo solo fare l'eroe Sì! Ecco, questa è quella che si chiama un'azione da veri eroi Urrà! Evviva! Fantastico! Bel lavoro! Guarda, leone Lo vedi? Il tuo eroe è in tv Io mi sento così in imbarazzo Mai quanto me Quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno Aspetti! Adesso viene la parte migliore Guardate! Salutite Norman Man! Sono un eroe anch'io! Norman! E con questo Sam ha fatto tre salvataggi in un solo giorno Ma quella è la mia tenda del bagno Norman! Norman! Ma tu, Norman, ne hai già prese tante Noi lavoriamo insieme Va bene Adesso vado a cercare un altro scoglio Prima che quei due li ripuliscano tutti Aiuto! Ascolta, Elvis Quegli attrezzi sono molto utili nel nostro lavoro Ma non possono essere usati in qualunque emergenza Ho capito Vai Norman, tira al mio tre Uno, due, tre E adesso? La marea sta cominciando a salire Dobbiamo trovare il modo di liberarti il piede il prima possibile Avanti, tira Norman! Tira! Io sto tirando! Ma non viene via! Ma non possiamo lasciarti qui Che cosa possiamo fare adesso? Chiamami il compiere Qualcuno è rimasto incastrato tra gli scogli? In spiaggia Sam! Qualcuno è rimasto incastrato E la marea sta salendo Prendi le pinze idrauliche, Elvis Non si sa mai Sì Cos'è successo, Charlie? È rimasto incastrato E io ho già provato di tutto per liberarlo No, non proprio tutto Già, hai ragione C'è ancora un'ultima cosa da tentare Puoi cercare di sciogliere i lacci, Norman? Io credo di sì Evviva! Grazie davvero, Sam il pompiere Avrei dovuto pensarci io Ehi, un momento Ma dove è finito il mio secchio? Ti ricordi dove l'avevi lasciato? L'ho perso Coraggio, ora andiamo Prima che la marea ci trascini via Aspettate Qui c'è la mia scarpa Tranquillo Adesso ci penso io Salve Salve, Mike Norman Che c'è adesso? L'ho fatta la lavatrice? No, tu hai solo rotto la lavatrice Spero sarai contento E adesso dovrei chiedere gentilmente a Mike Se possiamo usare la sua Cosa? Ma io... Divertiti, Norman Chissà se Sarah e James Vorranno fare skateboard Senti, Norman Neanche a me piace sbrigare le faccende di casa Ma se vanno fatte Allora tanto vale farle bene Non credi? Oh, no! Chiamano subito, Sam il pompiere Un incendio a casa dei Flood No, no! Perché l'allarme scatta sempre nei momenti meno opportuni? Incendio a casa dei Flood Penny, prendi il fuoristrada Allontanatevi dalla casa Adesso ci pensiamo noi Elvis Stacca la corrente Ok, Sam Oh, no! Che ha combinato stavolta, Norman? Guarda che io non centro niente È colpa mia Sono uscito E ho lasciato il ferro collegato alla corrente Conviene sempre stare molto attenti Qualunque lavoro si faccia Sì, anche uno spazzolone Può essere molto pericoloso Elvis ha ragione Leone, Leone Dove ti sei cacciato? Ormai è tutto inutile Qui non c'è Mi avevi detto che non si sarebbe perso E che sarebbe tornato a casa Ma non è vero Non avrei mai dovuto lasciarlo da solo Oh, Sara Non dobbiamo arrenderci Leone è scappato altre volte Ma è sempre ritornato Coraggio Adesso andiamocene a casa Sta tranquilla, piccola Magari è già lì che ci sta aspettando Guarda, una moneta Io vorrei tanto che Leone tornasse Ti prego Leone Mamma Mamma Ha funzionato Ha funzionato Leone è nel pozzo Leone Presto, mamma Chiamo subito Sammy il pompiere Leone nel vecchio pozzo Sembra che Leone sia caduto nel vecchio pozzo Avverta il soccorso alpino, signore Dica a Tom di raggiungerci sul posto Sono felice di vedere che il soccorso alpino si mobilita anche per un gatto Ma certo, Bronwyn Pensavo che lo sapessi che noi non ci occupiamo soltanto delle persone Eccoli là, Penny Ciao, Tom Adesso avremo bisogno del tuo verricello Non c'è problema Bene, Tom Noi ci siamo D'accordo, Sam Ora non facciamoci prendere dal panico Restiamo calmi Come calmi? Ma come facciamo a restare calmi? Qui c'è un incendio Allora, adesso prova a ripetere con me Io devo restare calmo Io devo restare calmo Io devo restare calmo È tutto il giorno che corre È vero, l'ho visto anch'io Oh Beh, ora non sta correndo Poverino, sarà stanchissimo Ma scusate, come avete fatto a credere che avesse corso tutto il giorno? Un incendio alla pescheria Sì, come avete fatto a credere che avesse corso tutto il giorno? Sembra che ci sia un bambino al piano di sopra Dove state andando voi due? A salvare un bambino Ma a me non sembra un bambino Infatti, quello è l'agnellino di Wally Che ho preso per fare uno scherzo È tutta colpa mia Oh, mi dispiace tanto Tranquilla, Sara Ora ci pensiamo noi Penny, prendi gli autorespiratori Elvis, tu prepara l'idrante Ora vado a salvare il... il bambino Oh, Sam, il pompiere Il mio agnellino Io lo sapevo che non era un bambino Anch'io, Mike Anch'io Ben, Sara, ma è comunque piccolo E vuole stare con Wally Oh, e questo cos'è? Il capitano Steel Norman Price Norman Price Fermo! Dove credi di scappare? Hmm, niente male come modello, però Norman! Salve, Sam Allora, come vanno le tue ultime creazioni? Malissimo A Pontipandi gli aeroplanini di carta non piacciono a nessuno Fulmini fiammeggianti! Il telefono! Presto! Qui pronto intervento Che cosa posso fare per lei? Al fuoco! Al fuoco! Un incendio nella nostra cucina Sam, Sam! La nostra cucina va a fuoco, presto! Un incendio nella nostra cucina? E com'è possibile? Chiudi subito il rubinetto del gas Rubinetto chiuso! Elvis Cridlington! C'era un estintone proprio accanto all'uscita di sicurezza Mi dispiace, ma non ci ho pensato È il mio stufato Era già capitato di bruciare la cena, ma non così I pompieri dovrebbero spegnere gli incendi Non provocarli E poi proprio nella giornata della prevenzione Io non so come sia successo Questa qui potrebbe essere una spiegazione Forse quell'aeroplanino potrebbe dirci chi è il responsabile Oh, sì È una lettera E c'è un nome qui Egregio Capitano Steel Io? Egregio Capitano Steel? Allora è stato lei! No, non è vero? È stato Norman Norman Price Oh, mi dispiace È stato un incidente Stavo solo cercando qualcuno a cui piacessero gli aeroplanini quanto a me Ho capito Ascoltate, ora io farei due chiacchiere con il ragazzo Per dargli una bella rimproverata Buona idea, signore Oh, povero Norman Probabilmente è stato solo un incidente Spero soltanto che il Capitano Steel non sia troppo duro con lui Non preoccuparti, Elvis Io ho la netta sensazione che quei due alla fine sicuramente troveranno un accordo Oh, pensa che io lo stia solo salutando Devo fargli sapere che ci serve aiuto Ma che fine avrà fatto il mio cellulare? Rosso è il segnale Rosso è il... Bravissima! Aiuto, aiuto! Rosso è il segnale Rosso è il segnale Qualcosa non va Speriamo che Sam abbia capito Mamma! Tenaglia si è liberato Non risponde Ora sarà meglio che chiami il pronto intervento Oh, no! Bronwyn è nei guai Chiamo subito il soccorso alpino Tranquillo amico Voglio dire signore Li troverò Tenaglia! Ma che cosa ci fai qui? Tenaglia! Dove corri? Non posso atterrare qui Chiederò appoggio Sam! Ho la sensazione che siate nei guai Qual è il problema? La mia gamba Chiamo l'infermiera Flotta Ma perché oggi non mi risponde nessuno al telefono? Tutto bene? Tenaglia mi ha portata qui Tenaglia! Sei stato bravo, lo sai? Non è niente di serio Ma adesso dovremo portarti in ospedale per fare una lastra Tom! Adesso è il momento di calare la barella Eccola Sam! Incendia al supermercato di Dillys Sam! Ha chiamato la signora Price E c'è anche un uomo in mare nella paia? Aspetta Sam! Che succede? C'è un altro allarme Sembra che ci sia un uomo in mare nella paia Ci mandi Penny con la lancia Che buona idea, Sam Penny! Vado subito, signore È un incendio di natura elettrica Quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione Da quella parte Vado subito Tranquilla, l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo C'erano troppo C'erano troppe spine su una sola presa Ecco dove era il problema Elvis ha ragione, Dillys Devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese Bisognerebbe sempre evitare Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci Ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora Scusa mamma Guardate chi stava nuotando nella baia L'uomo in mare era proprio Babbo Natale Evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni Ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto Sul tetto? Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino Che cosa ti avevo detto Norman Price? Ma dai mamma Norman Price? Io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse A ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi Sorridi Norman Sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma E per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te Sì Norman, sei stato molto gentile E così tutti in città potranno vedere Babbo Natale Sì, ecco, non vorrei essere egoista Ehi Norman, lasciane qualcuna per gli altri In effetti, questo è il posto ideale per il tuo Babbo Natale E poi qui non potrà sicuramente causare altri incidenti Una tortina natalizie, signore? No, no, no Grazie molte, Elvis Oh, aiuto Oh, e andiamo Che male Io inizio a chiedermi se sa davvero dove sta andando Potrebbe avere solo fame Beh, io di sicuro Forse papà aveva ragione Radar non è proprio un cane da salvataggio Coraggio, ora riportiamolo in caserma Si può sapere che ti prende Aspetta, Mandy Io sento qualcosa Non essere sciocco Quello è il furgone di mio padre Aiuto Papà Papà, ma cos'è successo? Stai bene? Io chiamo Sam il pompiere Mike Flood ha avuto un incidente Sembra sia rimasto intrappolato nella trattoria del pesce intero Incidente alla trattoria del pesce intero C'è una persona intrappolata Chiamiamo l'infermiera Flood Potremo avere bisogno di lei D'accordo, Sam E' vero E' vero E' vero Tranquillo Mike, ti tireremo subito fuori da lì Meno male Sta attento Sam, non devi muoverlo Devi prima immobilizzarlo, potrebbe avere delle lesioni alla schiena Sam, ho portato questa per tirarlo su da lì No Elvis, non possiamo usare la sedia Purtroppo non ci sono più le scale Allarme inizia a suonare Sam sa sempre cosa fare Se nei tuoi ti caccerai Sempre Sam tu troverai Su forza chiama Sam